I corpi del 25enne Giorgio Agatino Giammone di Antonio Galatola, detto Tony, 15 anni, vennero trovati il 31 ottobre 1980, uno accanto all'altro. I due ragazzi furono uccisi con un colpo di pistola alla testa. A Giarre, piccolo comune in provincia di Catania, li conoscevano tutti come i ziti, i fidanzati. A distanza di 43 anni, Paolo Patanè, attivista per i diritti LGBTQ+, ed ex presidente di Archigay, ha raccontato a fanpage.it quello che il delitto di Giarre ha rappresentato per lui, che conosceva Giorgio e Tony, e per le battaglie della comunità. Vedevo Giorgio e Tony ogni giorno, perché i luoghi che frequentavano erano vicini a quelli della mia vita quotidiana. All'epoca, pur essendo giovanissimo, sapevo di essere omosessuale, ma non ero in grado di accettarmi. Quando guardavo Tony, mi identificavo in lui, perché era vicino a me di età, e questo mi metteva nella condizione di temere le chiacchiere, poiché della loro coppia si parlava molto in paese, ma allo stesso tempo di essere attratto dalla sua relazione con Giorgio e di rivedermi in loro. Quello che faceva scandalo di loro due non era che avessero una relazione sessuale, quanto che fossero davvero innamorati, che vivessero come una coppia e che apparissero tali in uno scenario pubblico. Il ritrovamento dei cadaveri è la confessione di Francesco Messina. Giorgio in paese era chiamato in modo dispregiativo Pupuco Bollo, in siciliano omosessuale con il bollo, perché era stato sorpreso in altra circostanza e con persone diverse in atteggiamenti intimi dalla polizia. Aveva ormai questo appellativo attaccato addosso, e lui era sicuramente uno su cui si riversavano molte chiacchiere, ma non credo che fossero stati oggetto di atti come coppia, ma era un oggetto di derisione e maldicenze. Questo sicuramente. Neppure il ritrovamento dei cadaveri dei due ragazzi, a due settimane di distanza dalla loro scomparsa, riuscì all'epoca ad attenuare l'atteggiamento derisorio nei loro confronti. Quando scomparvero, si diceva in modo ironico che avevano fatto la fuitina e che era stato sicuramente Giorgio ad aver portato via Tony. Ma più passavano i giorni, più aumentava la preoccupazione. Le persone hanno cominciato a pensare che potesse essere accaduta una disgrazia, che quando sono apparsi i cadaveri, la tragedia è esplosa e le persone sono rimaste sotto shock. All'improvviso, il paese si è trovato di fronte al rischio che ci fosse un assassino a piedi libero, per Giarre, anche se la tendenza è sempre stata quella di trovare un colpevole facile. Prima in Giorgio. Dicevano che era stato lui a spingere Tony al suicidio, poi quando hanno trovato la pistola, sepolta poco distante, nel nipote di Tony, Francesco Messina, un minore di 14 anni. La maggioranza della gente riteneva comunque Giorgio direttamente o indirettamente responsabile morale della morte di Tony, visto che era il più grande della coppia. L'inchiesta giudiziaria è archivata e i successivi sviluppi. Da un punto di vista giudiziario, il caso venne archiviato molto frettolosamente e con una fretta voluta, secondo Patanè. Troppe cose non sono state accertate. La pistola, per esempio, non poteva essersi materializzata dal nulla. A chi apparteneva? Francesco Messina ha confessato, poi ha smentito, dicendo che era stato picchiato e che era stato costretto a confessare per proteggere il nonno. E ancora si è riaccusato di nuovo. Quando poi si è intuito che fosse improbabile che il 14enne avesse fatto fuoco, il caso non è stato riaperto. Sono passati decenni e i responsabili sono morti. La vicenda giudiziaria è stata ripercorsa dal giornalista Francesco Lepore nel libro Il delitto di Giarra e poi diventato anche un documentario. La storia è ancora tragicamente attuale, perché ci ricorda che nel nostro paese si subisce ancora violenza e discriminazione per l'orientamento sessuale. Questa storia però ci apre anche alla speranza, perché come ben noto, un mese dopo il delitto di Giarra, nasce il collettivo omosessuale dell'Arci, che sarebbe poi diventato Archie Gay. Niente e nessuno potrà restituire la vita che avrebbero potuto avere e questo è spaventoso pensarlo. Loro non volevano dimostrare qualcosa a qualcuno, volevano vivere la loro vita e non potevano immaginare che questo li avrebbe uccisi e trasformati in memorie ed eroi. Grazie a tutti.